Buongiorno e benvenuti all'edicola di oggi 14 giugno 2022. Iniziamo la nostra rassegna con la lettura dei quotidiani partendo dal Corriere della Sera che titola la prima pagina centro-destra avanti spinto da Meloni. Le elezioni il centro-sinistra sconfitto a Genova, Palermo e l'Aquila ma conquista Lodi e Taranto e va al balottaggio a Verona e Parma. Fratelli d'Italia supera la Lega al Nord, la leader, gli alleati lasciano il governo, cede il carroccio e crolla il Movimento 5 Stelle. Un messaggio dalle urne Antonio Polito scrive seppur con le caratteristiche di un voto amministrativo in cui la gente cerca essenzialmente buoni amministratori, questa consultazione elettorale un segnale politico l'ha però dato. Si potrebbe dire che ha premiato la coerenza e punito l'ambiguità. Le forze politiche che provano a stare un po' di qua e un po' di là come la Lega di Salvini e i 5 Stelle di Conte che sostengono il governo ma gli mettono i bastoni tra le ruote ogni volta che possono escono sonoramente ridimensionate. Clamoroso sul fronte leghista è il caso di Verona dove non solo il sindaco uscente del centro-destra arriva al balottaggio da secondo battuto dall'exploit di Damiano Tommasi candidato anomalo e civico di una grande coalizione di centro-sinistra ma addirittura l'ex carroccio in Veneto la più potente macchina elettorale dei tempi della DC è accreditato di un misero 6%. Quasi la metà del risultato di Fratelli d'Italia eccede molti consensi all'ex sindaco e transfuga Tosi. Il partito della Meloni sembra anzi stabilmente e ovunque avanti al partito di Salvini. Dopo il Corriere della Sera passiamo alla Repubblica. Crollo di Salvini e Movimento 5 Stelle centrodestra Fratelli d'Italia supera la Lega anche nelle Roccaforti ma Meloni sola non sfonda e invita gli alleati a lasciare il governo. Il campo largo PD siamo il primo partito. I 5 Stelle ridotti ai minimi termini. I Dem guardano a future coalizioni. Intanto al centro fenomeno calenda i candidati di azione dal 12 al 23% dei consensi. Renzi Letta parli con noi. Il commento la strada obbligata del centro-sinistra. A volte nella vita è più difficile gestire i successi rispetto alle sconfitte e non c'è dubbio che queste amministrative per il Partito Democratico sia una quasi vittoria almeno a livello di lista. Il PD è il primo partito d'Italia. Il punto Stefano Folli equilibri cambiati nelle alleanze. Domenica 12 giugno sarà forse ricordata come la data spartiacque in cui si sono consumati molti equivoci e alcune illusioni della nostra politica. Potrebbe essere il giorno in cui è morto l'istituto del referendum ucciso dall'indifferenza generale. Verona Tosi i miei voti decisivi ma Sboarina non chiama. E poi ancora il saggio così la democrazia alla fine si salverà. Andiamo ancora avanti con la lettura di spalla l'economia. Le critiche di Roma alla BCE effetto Legard sui mercati. Viste le sue origini Christine Legard conosce bene la parola GAF e all'interno delle pagine chiaramente i commenti. Il conflitto i russi con i loro tre battaglioni pieni di coscritti e riservisti non sono ancora riusciti a traversare il fiume ma hanno preso quasi tutta la città di Severodon. Guerra e Covid il doppio trauma e prima il trauma della pandemia poi quello della guerra nel cuore dell'Europa. Prima l'angoscia dell'infezione poi l'angoscia di fronte alla crudeltà dell'aggressione Russia. E andiamo avanti con la lettura della stampa. Meloni sfida Salvini partiti i 5 stelle. Il centrodestra trionfa a Genova Palermo e l'Aquila. Alpidi Padova e Lodi. A Verona Ballottaggio Tommasi Sbuarina. E poi ancora il commento. Giorgia Matteo l'astenteismo e i partiti inutili. L'analisi la Lega non è più partito nazionale. Leggiamo Giovanna Orsina scrive tra le conclusioni generali da una tornata parziale di elezioni amministrative è sempre un azzardo. Le specificità locali contano molto. Ovviamente conta il disuguale radicamento territoriale dei partiti. La giustizia, l'uso improprio dei referendum, la Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validi. L'economia, borse ancora picco, lo spread non si ferma. Attenzione governo BCE. E poi l'inflazione, spending review, unica via d'uscita. Il fine vita, sedazione profonda all'ultima notte di Fabio dopo mille battaglie. E poi la geopolitica Mavlad, il grande, ha perso la guerra. La Russia ha perso la guerra. Rimane da vedere se la perderà anche l'Ucraina. La risposta emergerà dal campo di battaglia nel corso dei mesi, forse degli anni. In pancia poi troviamo una foto che ritrae il Papa in preghiera. Il Papa prega per la pace, ma la Nato ha provocato Putin. Francesco a padre Spadaro prima della guerra ha incontrato un importante capo di Stato. Passiamo ad avvenire. Il quotidiano di ispirazione cattolica non voto di sfiducia. A Genova, Palermo e l'Aquila ha subito successo per Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Il centro-sinistra sorprende a Verona molte le città ai ballottaggi. Falliscono i cinque referendum con l'affluenza più bassa di sempre, 20,9%. Alle comunali ha votato il 54,7%. Il centro-destra unito è davanti. Il campo PD, Movimento 5 Stelle, non abbastanza largo. Maletta rivendica. Noi primo partito. E poi il riferimento al conflitto, la guerra, la Russia spinge sul fronte orientale, draghi verso il viaggio a Kiev. Zelensky, resistenza sino alla fine. Si combatte metro per metro e ferocemente, ma la sorte della città di Severodonnesk, oggi cruciale per il conflitto del Donbass, sembra ormai segnata. Il presidente Zelensky, non cediamo. Il dialogo tra papa e media gesuiti, ma la guerra, non si può ridurre alla distinzione tra buoni e cattivi. E poi leggiamo insieme l'editoriale di Marco Tarquino e di spalla due metà d'Italia, i segni da leggere. Quasi metà dell'Italia chiamata le urne non vota. Quasi metà dell'Italia chiamata le armi non si fa incantare da retoriche e ambiguità bellicistiche. A metà, a metterla così, l'analisi a qualcuno potrà sembrare un po' ruvida. Eppure si tratta di una verità percepibile in questa torrida metà di giugno del 2022. Ed è saggio fare attenzione ai segnali che vengono dal corpo vivo del paese, compresi quelli che si dicono di cittadini che non si fanno convincere neppure da tutti coloro che nel centro-destra, come nel campo largo progressista, ripetono pace e pace e poi votano sempre sì sull'aumento della spesa militare e sulle armi da gettare nella fornace atroce della guerra d'Ucraina. Sta ormai accadendo qualcosa e non sono solo gli ormai consueti spostamenti di voti tra case vicine e da queste verso la piazza sconsolata e ribollente dell'astenzione. Tantomeno le classifiche di vere e supposte primizie e primazie nella corsa su una triste chiena. Si accelera uno svuotamento di fiducia e di partecipazione nel serio gioco democratico, frutto di delusione e di non pieno riconoscimento dal basso in parole e scelte dall'alto. Ma insieme si addensano anche sorprendenti consensi sui candidati sindaci e capace di fare pace tra le attese dei cittadini e le proposte dei partiti. Sembra la domanda di un'altra politica meno aggressiva, non meno decisa in ciò che conta. Certo è la voce di un'altra Italia e di preoccupazioni vere di gente vera. Meglio darle ascolto. Dopo avvenire passiamo al sole 24 ore il quotidiano di Confindustria. In caduta le borse di tutto il mondo. Lo Sprit arriva fino a quota 248. Mercati vendite da Tokyo all'Europa. Milano cede il 2,8 per cento. Wall Street in fase orso. Le incertezze sulle scelte BCE fanno crescere i rendimenti degli altri paesi periferici. E poi ancora Eurobond durevoli garantiti da loro. La proposta ancora settore in crisi. Celsius va in crisi di liquidità. Parte la paura del crypto crash. Rete unica. Tempi più stretti in luglio. L'offerta per team Brennero. I blocchi austriaci costano 1,2 miliardi di euro. E dopo il sole 24 ore passiamo alla stampa locale con l'edicola del sud. L'industria dopo 12 anni ecco le assunzioni nell'ex opificio portieri e guardiani in servizio da giovedì. L'ex home torna al lavoro il piano di selectica. Saranno 12 tra portieri e guardiani i primi lavoratori a tornare nello stabilimento dell'ex home carrelli dove in selectica sta per avviare un grande progetto di riciclo del vetro. Una notizia che giunge a quasi 12 anni di distanza dal ridimensionamento del sito produttivo. Esultano lavoratori, impresa e sindacati. L'Ateneo l'unico e la nostra idea è il dibattito dell'edicola del sud. Dopo la proposta a Bronzini parla l'assessore Leo. A Bitonto ladri nella notte in ospedale rubano tre computer. Terzo in tre settimane. E poi di spalla alcuni titoli. Taranto, Mellucci sbaraglia tutti. A Barletta e pareggio nella città della disfida. A Bitonto la spunta Ricci al fotofinish. A Canosa si dà l'addio a Morra perché trionfa Malcangio. E dopo l'edicola del sud passiamo alla gazzetta del mezzogiorno. Sindaci eletti e vinti. Il centrosinistra tiene Taranto. Necessario il turno di balottaggio a Barletta. Referendum flop. Lontanissimo il quorum ma la non va in archivio. C'è una fotonotizia di Taranto. Rieletto il sindaco Rinaldo Mellucci con il governatore Michele Emiliano. In crociatore russo si avvicina Taranto. Draghi. Euromissione a Kiev. Foggia la mala alza il tiro. La calda è stata foggiana dopo i roghi nei campi di grano. Appartenenti a impreditori che hanno denunciato e fatto restare gli uomini del racket. Registra anche una pesante intimidazione nei confronti del procuratore capo della Repubblica di Foggia. E poi ancora tradimento a regola d'arte. Dunque il tradimento ma soprattutto il traditore perché c'è forse una figura più ripugnante del traditore. Basta la parola come recitava la vecchia Reclame. Ed ecco apparircene l'archetipico perfetto. Giuda. Dico i più grandi maestri dell'antichità da Giotto a Caravaggio lo rappresentano. Viscito e ingobito. E poi ancora la giustizia non è stata scagionata. Non ci voleva Nostradamus per prevedere il flop dei cinque referendum sulla giustizia. Ciò che non era stato previsto e che avrebbe registrato la più bassa affluenza della storia. Sono andate alle urne due italiani su dieci. E dopo la gazzetta del mezzogiorno passiamo al messaggero. Il quotidiano di Roma. Meloni Traina. Il centrodestra. Il PD. Noi primi. Crollo. Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia supera la Lega. Ora stop al governo Draghi. Salvini in difesa. 5 Stelle sotto il 10%. Anche al sud. Azione e Italia. Viva. Accelerano. Il rifiuto del voto. L'astensione che consegna la democrazia alle minoranze. Alessandro Campi scrive. A sentire certi commenti sulle amministrative di domenica scorsa l'Italia sembrerebbe un gigantesco laboratorio politologico. Oggi ogni città se leggi dati con attenzione ti dice quel che potrebbe accadere alle politiche nel prossimo anno. Alleanze. Tendenze di voto. Caratteristiche dei candidati vincenti. Eccetera. C'è dunque il laboratorio veronese dove la destra si è divisa in due e rischia così di far vincere gli avversari al balottaggio. C'è quello parmense dove il PD si è alleato invece che col Movimento 5 Stelle come in altre realtà col nemico giurato di questi ultimi. Quel Piazzarotti che fu la loro prima vittima sacrificale. C'è poi quello Aquilano dove è stata la sinistra a dividersi e a regalare una facile vittoria al primo cittadino uscente. Ma non basta. Nel laboratorio catalanzerese il centrodestra si è diviso in tre liste e quello arrivato primo come candidato dell'area in realtà è uno che viene da sinistra. In quello palmeritano dopo l'epopea di Orlando ha vinto il centrodestra senza nemmeno andare al balottaggio visto che da queste parti il balottaggio nemmeno è previsto. Infine nel laboratorio genovese ha vinto il sindaco uscente ma non perché sia di centrodestra ma perché è stato l'uomo della ricostruzione del ponte Morandi apprezzatissimo trasversalmente come dimostrato dal successo della sua lista personale. E poi un riferimento alla cronaca bimba rapita nel catanese caccia a tre uomini armati. La denuncia della madre erano incappucciati hanno preso Elena. Sospetti sul compagno della donna gli inquirenti non chiederanno soldi. Passiamo al mattino morto in cella il boss della faida di scampia e giallo. Il personaggio sanguinario e con il look da corvo ispirò il genni della serie Gomorra. Spalle larghe, sguardo fisso e spavaldo proprio di chi si sente superiore rispetto a eventi sfavorevoli. Chi era accanto a lui lì nella caserma dei carabinieri il 21 gennaio del 2005 ricorda la postura del corpo sapientemente studiata con l'obiettivo di trasmettere messaggi univoci a un clan impegnato in una faida sanguinaria. Fu così che Cosimo di Lauro divenne il modello su cui costruire il personaggio di genni della serie Gomorra. In pancia sorpasso Meloni crollo del Movimento 5 Stelle. Le elezioni nei comuni Fratelli d'Italia traina il centrodestra e supera la Lega. Stop al governo Draghi. Letta, noi primi apriamo al centro. Caso Portici di Maio con il PD. Batte il candidato di Conte. E poi ancora il riferimento alla guerra, il dialogo, la strategia silenziosa del Vaticano per la pace. E passiamo alla lettura del quotidiano del sud, il quotidiano diretto da Roberto Napoletano. Il nostro tallone d'Achille sono i partiti. Elezioni e mercati non ha vinto nessuno ma il loro bla 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 fa volare lo spread. Leggiamo. La sostanza politica è che non vincono gli schieramenti ma la qualità dei sindaci e la rete locale di interessi. Anzi i partiti escono a pezzi. I loro capi però si vantano, criticano l'Europa e punzecchiano Draghi. Risultato il rendimento del BTP decennale sale fino al 4,1%. La borsa crolla ancora. Per fortuna l'economia e le banche grazie alla fiducia di imprese e famiglie nell'azione di questo governo stanno meglio del 2011. Ma paghiamo il conto del rischio politico italiano fatto di catastrofismo e anti-europeismo. Soprattutto mezzogiorno e piccole imprese che ricevono meno credito. Con questo bla 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 tutti i problemi del mondo. Ieri la FID sotto processo per essersi fatta sfuggire di mano l'inflazione americana diventando un problema italiano. E oltre la debolezza della Legard orientare la BCE sulla rotta giusta diventa più difficile. Meloni supera Salvini. Il PD fa il perno. Le comunali non ostacolano Draghi. Tracollo del Movimento 5 Stelle. Affluenza ancora in calo. Vittorio Ferla scrive. La valutazione delle amministrative non può che partire dal dato dell'affluenza. Il 54,73% di partecipazione al voto al primo turno non è certo un segno di fiducia nei partiti. Continua il trend negativo in corso da tempo. Colpisce che la disaffezione riguardi la dimensione comunale. E poi l'analisi. L'istituto referendum non è stato seppellito. La bassa affluenza ben al di sotto del 50% più un necessario perché possa avere effetto non seppellisce i referendum abrocativi. A Palermo seggia aperti in ritardo presidenti spariti per la partita. Una figuraccia che si doveva evitare. Pietro Bussetta scrive. Certo che si debba in una città del settimo paese industrializzato assistere ad un numero così rilevante di sezioni che non vengono aperte perché i presidenti rinunciano all'incarico in così gran numero. È certamente un fatto estremamente grave. La scomparsa dei simboli di partito. Voto in Calabria. Massimo Clausi scrive forse. Ha fatto bene il presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto a diserretarsi a queste amministrative in Calabria. E poi dispalla i mercati dopo la BCE. L'attesa della Fed affonda le borse. Il venerdì nero delle borse ha allungato la sua onda investendo anche l'apertura di quella che si annuncia una settimana difficile. Legard italiani pensate alla crescita non ai tassi. Non sparate sul pianista. Si potrebbe adottare la stessa esortazione nei confronti di Christine Legard, la direttrice d'orchestra nel consiglio della BCE. E poi ancora crisi alimentare. Grano crollano i raccolti. Italia meno 30%. Anna Maria Capparelli scrive la prima brutta notizia è che non si blocca ancora la fase di stallo per il grano prigioniero in Ucraina. La seconda è una doccia fredda. Raccolti italiani meno 30%. E ancora il bollettino di guerra. La stregua resistenza di Azov da Mariupol a Severodonnesk, da Azovstal a Azovt. A neanche un mese di distanza la storia si ripete nel grande impianto industriale del Lugask. E chiaramente il commento all'interno delle pagine da parte di Luca Lamantia. Bene, dopo il quotidiano del Sud noi chiudiamo la nostra rassegna. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di giornata.